Mi pongo il problema di che cosa significa essere perché sto stretto nel concetto di essere che ho realizzato, cioè quel lente che pone il problema è l'uomo che domanda cosa vuol dire essere, come domanda che ora è, ma domanda che cosa vuol dire essere perché ha l'impressione che l'uso del termine che ha ereditato sul vocabolario eccetera non funzioni per lui, è quello che ho già accennato, cioè se l'essere è oggettività io cosa sono, ma sono.